Nell'ambito dell'iniziativa diritti e democrazia organizzata dalla CGL di Caserta anche una nutrita partecipazione da parte degli operai Firema che giustamente hanno chiesto risposte concrete alle istituzioni. Voi ormai da anni chiedete delle risposte, finora però tante chiacchiere e pochi fatti. Sì, solo passerelle politiche, campagna elettorale, però siamo stanchi perché sono due anni, soprattutto Vetrella, che è venuto anche in azienda a prenderci in giro, cioè fino in azienda che dovrebbe sbloccare dei pagamenti su lavori già fatti. Quindi sono diversi milioni di euro che potrebbe, sbloccando il pagamento di questi soldi, dà la possibilità a Firema di rimettersi in cammino su commessa Metro Campania. Quindi attualmente ne sono solo una ventina di operai in azienda. Questo permetterebbe anche il rientro in azienda di altri dipendenti che attualmente sono scaricati in cassa integrazione. E fa rabbia... Parliamo di quanti dipendenti? Attualmente siamo con quasi 400 e quindi è proprio poco il personale che è in azienda. Questo ci darebbe la possibilità di rientrare e di scaricarci dalla cassa integrazione, anche perché vivere di cassa integrazione è durissima. È durissima e quindi sentire per l'ennesima volta dirò, farò... Io poc'anzi ho invitato Zinzi a occuparsi un po' più dei problemi reali, come quello della Firema, perché sono due anni che andiamo avanti su questa storia della commessa Metro Campania e Seps. Tra l'altro c'è da dire che quando è venuto in azienda a vetrella diceva che non era più né Seps né Metro Campania, ma lui ne prendeva direttamente, lui ne assolveva il tutto. Fra l'altro lo sblocco della regione dei fondi potrebbe rendere, anzi sicuramente renderebbe più appetibile l'azienda per eventuali acquisizioni da parte di società estere. Certo, perché con la chiusura della Data Room, che è stata a 3 agosto, ci sono in ballo tre aziende, tre internazionali, la Bavaria tedesca, una ditta turca e una indiana. Però a tutt'oggi non abbiamo risposta e non ci hanno detto il risultato. Il tuo collega prima diceva che è difficilissimo vivere in cassa integrazione. Ci puoi spiegare anche per te cosa significa? È duro, è duro perché siamo sette di noi a casa. Solo io, siamo a casa integrata, niente lavoro nuovo. Siamo sette di noi, tutto senza lavoro. Prima ti abbiamo anche sentito fare uno sfogo, dicevi ad alcuni rappresentanti delle istituzioni, di questo passo ci costringerete ad andare a rubare. Sì, sì, si stanno costringendo ad andare a rubare. Aspetta, aspetta, aspetta. È chiaro che è una provocazione. Noi siamo operai, sappiamo lavorare. Voi non chiedete altro che fare il vostro lavoro. Sì, esattamente. È chiaro. Lui è un ottimo lavoratore. È chiaro che la cosa la dice per provocazione. Che noi rifiutiamo la logica del malaffare, però siamo disperati. Non è possibile che ogni mese si debbano accompagnare dei colleghi per quanto riguarda i pacchi umanitari. E' assurdo. Fa rabbia. E soprattutto dopo, quando passa molto tempo e non ci sono risposte, ma solo sapere che ci stanno prendendo in giro, diventa esasperante. Diventa esasperante.